Non posso fare altro che ringraziare tutti quelli di voi che si sono connessi e sono veramente molte persone, quindi grazie per essere con noi oggi pomeriggio e soprattutto grazie a Simone Aliprandi e Andrea Mangiatordi che insieme a noi rifletteranno su questo tema a partire proprio da una serie di storie formative di competenze e di interessi che sono distinti ma complementari. Quindi siamo davvero lieti di averli insieme a noi. Il tema della lettura, dell'accessibilità, del diritto a fruire di prodotti culturali e di interfacce che sono quelle proprie della nostra vita odierna e della cittadinanza è un tema che da molti anni viene discusso e affrontato dal punto di vista normativo, di regolamentazione dei diritti e di supporto a questi stessi diritti sia dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche e non poter non discriminare le persone, non escluderle a partire appunto da certe caratteristiche di funzionamento personale. Questo è uno degli ambiti più importanti della nostra delega, in effetti la questione dell'accessibilità dei testi è per i nostri studenti di tutti i livelli, per chi in generale si occupa di cultura e di ricerca della massima importanza, così com'è della massima importanza per qualunque persona voglia vivere in maniera competente e non esclusa la propria cittadinanza, il proprio diritto a essere parte, alla propria partecipazione sociale. Non c'è argomento che sia più connesso di questo al tema dell'esercizio dei diritti e in particolare appunto la connessione riguarda proprio i diritti anche così come sono espressi e sanciti dalla Convenzione ONU che appunto si occupa di mettere dei punti fermi sui diritti delle persone con disabilità. Nel tempo noi ci siamo trovati a incontrarci, barra scontrarci con il tema dei diritti d'autore e della trasformabilità da molti punti di vista, un po' come ambito appunto di abbattimento delle barriere rispetto ai percorsi degli studenti e un po' come ambito di azione legato anche alla conferenza dei delegati dei rettori, di cui naturalmente io come rappresentante di Milano Bicocca faccio parte, proprio nel tentativo anche di fare una pressione di carattere culturale sulla necessità anche di adottare una serie di trattati internazionali che nel frattempo sono stati, come dire, per fortuna riconosciuti anche dalla comunità europea come punti fermi e che potrebbero, barra dovrebbero sostenere anche la trasformabilità, il potenziamento dell'accessibilità insomma del libro in tutte le sue, o della scrittura diciamo, in tutte le sue molteplici forme, perché certamente il tema è quello dei libri ma non è solo quello dei libri, insomma, il nostro accesso attraverso la lettura è davvero uno degli assi portanti della nostra partecipazione sociale e della nostra essere cittadini di questo mondo, quindi vi ringrazio molto per essere qui con noi, ci scusiamo in maniera, come dire, umile per il fatto che nonostante tutti i cambiamenti di questi ultimi periodi, il quarto d'ora accademico non siamo riusciti a risparmiarvelo, quindi vi ringrazio molto di questa involontaria scortesia, passo con grande piacere la parola a Simone Aliprandi, avvocato, persona che da molto tempo si occupa della questione dei diritti d'autore, della questione della generalizzabilità, della fruizione senza barriere dei prodotti culturali e dei libri e quant'altro, quindi siamo davvero lieti di averlo con noi, la sua presentazione precederà a quella di Andrea Mangiatordi, abbiamo concordato con loro che se il pubblico ha delle domande di chiarimento, naturalmente ce le manda attraverso la chat, quelle che sono di chiarimento nel caso in cui la presentazione sia poco comprensibile o oscura, io le condivido immediatamente con chi sta parlando in modo da non avere degli intoppi nella partecipazione, quando invece abbiate delle domande di approfondimento avremo al termine di ciascun intervento un momento dedicato al cambio di… Arriviamo in diretta.